Non solo papà sacrificò la sua vita per non mettere in pericolo i familiari del ragazzo che lo uccise. Nell'azione in cui perse la vita insieme a vicequestore Padovani, dopo che quest'ultimo giaceva a terra colpito a morte da Walter Allasia, rinunciò ad usare la mitraglietta avendo sulla linea di fuoco i genitori e il fratello di Allasia e provò a disarmarlo. In quei concitati momenti il giovane gli sparò il colpo mortale. Ma in ogni azione della sua vita il senso del dovere accompagnato da grande umanità sono evidenti e conseguenti. Tra gli aneddoti significativi della vocazione di papà mamma racconta spesso quando, dovendo un giorno arrestare un uomo in presenza della moglie incinta, si finse un suo amico per non traumatizzare la donna. Oppure le svariate volte che a spasso per il centro lui e la mamma venivano fermati dopo convenevoli pacche sulle spalle, inviti per un caffè, alla domanda Sergio che è un collega? Papà rispondeva no, l'ho arrestato tempo fa. Papà era un uomo con la U maiuscola. Quando doveva condurre qualcuno in carcere, magari sapeva che le cucine erano chiuse, si preoccupava di recuperare un panino o qualcosa a mettere sotto i denti. Nel suo ambito fu tra i primissimi ad attivarsi per la costituzione di un sindacato di polizia che democraticizzasse il corpo dall'interno. Io vi sono grato per avermi concesso oggi questa opportunità di condividere con voi alcuni dei miei ricordi. 40 anni fa mio padre Francesco Cocco, magistrato, veniva assassinato mentre tornava a casa all'ora di pranzo, dopo una mattinata di lavoro. Accanto a lui morivano i due uomini della scorta, Antioco Deiana, appuntato dell'arma dei carabinieri, e Giovanni Saponara, brigadiere di pubblica sicurezza. Sì, ero un adolescente, avevo appena 15 anni. Da allora sono passati 40 anni e io non ho perso un solo giorno della mia vita senza tornare a rivivere con il pensiero quei momenti. Non un solo giorno senza ricordare, assieme a mio padre, anche Giovanni e Antioco, divenuti entrambe parti della mia famiglia, dei miei affetti, come fossero due fratelli maggiori. Non ho perso un solo giorno senza ripensare al triste momento dell'ultimo saluto a papà, e mi scuso con voi per la crudezza di questo ricordo. Quando nella camera mortuaria mia madre volle che accanto a quello di mio padre fossero composti anche i corpi di Antioco e Giovanni, affinché li vedessimo insieme, e il nostro ultimo saluto fosse il grande unico abbraccio di una famiglia unita nel medesimo lutto. Sono ormai passati 30 anni da quei giorni, tanti, troppi giorni, in attesa per conoscere un perché, una seria motivazione, una risposta a mille domande. Abbiamo assistito dolorosamente a una debacle investigativa e processuale senza precedenti. Dei 13 terroristi ne sono stati arrestati solo 5. Non sappiamo neppure chi ha sparato, né se c'è stato un mandante o chi era il complice. Non sappiamo niente. Sappiamo con certezza che hanno ammazzato nostro padre, un servitore dello Stato che adempiva i propri doveri con passione, onestà, serietà, dedizione. Lo Stato, invece, con le sue istituzioni, ha fallito proprio come quei 13 terroristi che lo uccisero. La legalità, il dialogo e l'amore possono prevalere, se lo vogliamo, sulla logica distruttiva. Stasera, quando tornerete a casa e guarderete negli occhi i vostri cari, vostra moglie, figlio o nipote, siete consapevoli che con il silenzio sul segreto di Stato vi rendete complici di quegli orrendi delitti? Volete condannare la vostra anima all'eterno? Grazie.